buongiorno a tutti bentrovati carissimi non voglio nascordervi che mentre pigio tac play per registrare questa puntata stanno rintoccando le campane forse non arrivate a sentirle ora è finito lo scampanio generale bello lo vogliamo leggerlo insieme come un segno proprio di benedizione di accompagnamento è la chiesa la nostra parrocchia ci accompagna perché siamo arrivati ebbene sì carissimi all'ultima puntata almeno per ora e guardate ho qui sott'occhio abbiamo vissuto insieme 26 puntate pensate dal mese di novembre si iniziava un pochino così vi ricordate quando stefano ma volevamo ripartire con l'avvento con il catechismo in presenza non è stato possibile abbiamo detto regaliamoci un angolino così mettiamole da parte vedete io mi ero proposto ma naso lunghissimo di fare delle cosine strette strette uoh non mi è mai riuscito di fare una puntata c'ho sempre il cronometro eccolo qui ora oggi svelo tutto il dietro le quinte quando voi sentite un suonino è questo cronometro io lo sento a 10 minuti ma puntualmente non ci arrivo va bene non importa ormai ci siamo regalati questi tanto se hai imparato i meccanismi e le modalità si può pigiare pausa potete andare a vedere un pezzetto di una puntata poi un'altra sono comunque ecco piccole riflessioni che ci hanno accompagnato per tutti questi mesi in modo umile è semplice abbiamo avuto modo di in qualche modo fronteggiarci e raffrontarci è con il con il catechismo con la parola di dio con la liturgia che ci accompagnava e soprattutto nella preghiera nell'affetto reciproco è sicuramente io sempre registro davanti a uno schermo il bellissimo studio di don stefano c'è un sacco di cose potessi muovere sta telecamera ve le farei vedere ma non posso perché c'è mega schermo preziosissimo quindi è stata anche per me un'avventura incredibile io non avevo mai fatto cose di questo genere e abbiamo pregato insieme è come anche questa volta vogliamo fare d'accordo ecco abbiamo imparato un poco di preghiere le avete scritte sul vostro quaderno andatele sempre a attingeteli ricopiatele fateci dei disegni regalatele com'è bello regalare alla nonna al nonno ma un amico anche uno zio io sono zio ho quattro nipoti e magari siete piccolini siete grandi fate un scrivete una di queste preghiere il padre nostro l'avea maria l'angelo custode e regalatelo fate l'oggetto dei vostri regali che bello anche nel bigliettino d'auguri c'è tanti auguri per il tuo compleanno e dietro c'è l'avea maria o allora sono le cose più belle si possa regalare è proprio la parola che viene dal vangelo che ci accompagna la preghiera è proprio aprire l'anima a dio metterla sotto lo sguardo buono di dio e allora diciamola insieme l'avea maria ci siamo abituati avete visto abbiamo pregato il padre nostro anche l'angelo custode il gloria al padre ecco tante cosettine belle e allora siamo quasi alla conclusione del mese di maggio e anche dell'avventura incredibile delle prime comunioni insomma non voglio anticipare nulla ma i prossimi mesi dovrebbero poter vedere anche la riapertura della nostra pieve e i tempi forse si allungano un po ma insomma comunque sia nel corso dell'estate la rivedremo un po sempre puntellata ma in perfetta sicurezza con la possibilità di finire che bello sarà rientrarci allora ecco insieme per cui affidiamo alla madonna il rendimento di grazie per tutto questo cammino che ci ha fatto fare per tutto quello che ci sta davanti e per tutti voi nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen ecco l'ultimo sguardo che chiude la professione della nostra fede sono queste parole qui la vita eterna è credo nella vita eterna amen e allora bellissimo che avvenga tutto questo perché questa nostra simbolicamente ultima puntata riprende la prima nella primissima puntata eravamo all'inizio dell'avvento tempo liturgico bellissimo no prima del natale che ci fa pensare al ritorno anche di gesù non solo alla sua venuta diciamo nella povertà di betlemme ma anche al suo ritorno no alla fine dei tempi ci ha fatto come dire intravedere no e la dimensione della vita eterna pensarci alla vita eterna è alla vita che non ha fino al paradiso al cielo guardare al cielo con allegrezza con gioia con speranza con desiderio ne abbiamo trattato la prima puntata e concludiamo proprio così se volete le pagine sono proprio le stesse è del del nostro we cut del nostro you cut per cui ecco dirò qualche cosettina e poi è proprio un lasciarci con un abbraccio che sa di vita eterna è sa di paradiso proprio un pezzo di cielo di paradiso allora in cielo sì c'è anche quel canto bello alla madonna al cielo al cielo al cielo andrò a vederla un dì pensiamoci bisogna desiderarlo il paradiso proprio come una dimensione che ci riguarda ci chiama e ci riguarda tutti in cielo si sta bene in cielo tutto è portato alla sua perfezione dio ci promette che in cielo avremo la pienezza ecco di questa vita che qui comincia l'avventura per attraverso il passaggio naturale della morte per concludersi in realtà per aprirsi alla vita eterna allora c'è proprio un'espressione bellissima e come vi dicevo tante volte è proprio la parola di dio che ci aiuta san paolo ci dice quelle cose che occhio non vide né orecchio udì né mai entrarono in cuore di uomo dio le ha preparate per coloro che lo amano il cielo tutto ciò che di più stupendo e meraviglioso i nostri occhi si sono abituati quasi come un'anticipazione in questa in questa vita a vedere l'amore l'amore della mamma del babbo pensate che meraviglia dei fratelli dei parenti degli amici cari un tramonto il mare il cielo le foreste le passeggiate fatte i nostri amici i nostri amici la bellezza dell'amicizia ecco tutto questo in cielo ancora di più e ancora in modo quasi inedito si direbbe cioè quelle cose che ancora i nostri occhi non hanno finito ancora di vedere ancora di più sarà in paradiso in paradiso dove tutto è molto reale molto concreto vi rammentate leghiamoci un pochino anche alla puntata scorsa Gesù risorto che si fa riconoscere e si fa vedere discepoli non è un fantasma e si diceva non è che dopo morte si diventa così un'evanescenza è dei fantasmi no 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 Gesù ha persino mangiato con gli apostoli si è lasciato toccare anche noi dunque riceveremo nella pienezza della vita eterna alla fine dei tempi si dice un corpo immortale e saremo perfetti 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 inteso con la radice di questa parola vuol dire portati a compimento è finiti come un'opera d'arte fine è finita completati è completati fino in fondo e sani così come avremo sempre voluto essere saremo come dio ci ha pensati dall'eternità ecco questa pienezza eterna la raggiungiamo in cielo in paradiso con una felicità che si dice sarà appunto perfetta cioè portata a compimento anche qui siamo molto felici tanto che spontaneamente ci viene da dire noi siamo abituati alla vita siamo fatti per la vita tanto che lasciare abbandonare la vita insomma è sempre qualcosa che non ci viene da augurarcelo insomma ecco c'è qualche cosa che ci va là dentro noi tutti siamo fatti per per la sopravvivenza il nostro corpo chiama proprio la vita e la ama sicuramente però ecco e quindi sperimentiamo una bellissima felicità su questa terra non siamo per caso non è una parentesi quella che viviamo qui no è fondamentale il pellegrinaggio terreno è parte integrante di quella vita eterna che vivremo certo nella pienezza della risurrezione e della redenzione lì dove ogni felicità sarà portata a compimento ogni felicità che è già nata qui ecco allora la fede l'affidarci a gesù per essere nella gioia e nella pienezza qui e per l'eternità conoscere dio conoscere gesù che si rivela si fa conoscere si fa incontrare ora e per l'eternità servirlo amarlo qui nei fratelli nelle opere di bene che posso fare qui su questa terra per amarlo per l'eternità ed essere amati per cui vedete non abbandoneremo nessuno dei nostri desideri l'amore non avrà mai fine le persone care incontrate su questa terra i nostri desideri saranno portati a compimento secondo il disegno di dio secondo la sua volontà molto più grandi e molto più belli di quanto noi possiamo mai immaginare e ce lo ripete san paolo quelle cose che l'occhio non arrivò mai a vedere ecco queste proprio queste dio ha preparato per tutti noi è per coloro che lo amano che lo cercano noi amati è da dio figli amati che dio cerca è per condurci è nella pienezza del suo amore eccolo lì di nuovo i dieci minuti sono passati ma somma oddio qui mi si spenge a che cosa alla grande dio stesso sarà per te per me per ciascuno di noi la felicità più grande del mondo beh carissimi congedarci con questo pensiero con questa aspirazione con questa preghiera con queste certezze della nostra fede è bellissimo allora in cielo chiamati tutti ad andare in paradiso perché tutti quelli che dicono di sì a dio vanno in cielo è naturalmente dio vuole che tutti vadano in cielo ecco la chiusura del mio cuore e mi renderebbe ecco allora perché è importante la vita di fede perché la chiesa che è in cammino nell'umanità ci annuncia le verità che sono via al cielo si dice è veramente Dio concede sempre la possibilità di liberarci è dal peccato di essere liberati abbiamo parlato del perdono della grazia della misericordia che chiama interpella la nostra vita perché noi si possa dire sì proprio come maria vuoi guarire e gesù dirà anche nel vangelo no lo abbiamo negli incontri che fa sì signore c'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene sì signore ecco siamo siamo fatti di te siamo fatti per te e allora ecco con lo sguardo il cuore a dio e le mani al lavoro è sempre in questa vita allora carissimi questo l'ho voluto conservare lo scrissi è ormai diverse settimane fa è all'inizio di queste nostre puntate quando cominciarono ad essere un pochino più è sistematiche questa è proprio la professione della nostra fede che fra l'altro il tempo di pasqua ci ha dato la grazia di pregare tutte le domeniche è perché questo è un credo che viene detto un pochino meno spesso nel corso delle messe domenicali perché in genere si dice il credo che si chiama il simbolo uniceno è costantinopolitano senti là che nome che è un credo più lungo più articolato più antico questo viene no scusate è successivo questo è quello che invece si chiama credo apostolico è che è stato comunque così elaborato in una forma più concisa è ed è molto molto bello e su questo ci siamo soffermati questa sia dunque la nostra preghiera finale tutto quello che abbiamo vissuto insieme ci fa dire ecco oggi a conclusione di questo nostro percorso per il quale rendiamo grazie e rendiamo grazie a dio a tutti voi la vostra pazienza do stefano ebbene professiamo la nostra fede insieme io credo in dio padre onnipotente creatore del cielo e della terra e in gesù cristo suo unico figlio nostro signore il quale fu concepito di spirito santo nacque da maria vergine patisso toponzio pilato fu crocifisso morì e fu sepolto discese agli inferi il terzo giorno risuscitò da morte salì al cielo siede alla destra di dio padre onnipotente di là verrà a giudicare i vivi e i morti credo nello spirito santo la santa chiesa cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la resurrezione della carne la vita eterna amen carissimi siamo stati su queste verità grandi della nostra fede le abbiamo esaurite mai continueranno ad accompagnarci ora e per l'eternità e allora ci salutiamo con un grande abbraccio virottuale così è una bella benedizione che funziona è anche attraverso i mezzi tecnologici invochiamo quella che viene dalle scritture che san francesco amava tanto tanto particolarmente e la rivolgeva ai suoi amici cari il signore vi guardi e vi benedica e volga la sua faccia verso voi il signore abbia di voi misericordia e vi dia pace il signore vi dia la sua santa benedizione nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen maria madre della chiesa prega per noi san giuseppe prega per noi e allora ci congediamo ci salutiamo e arrivederci a presto in presenza e poi per un prossimo anno di catechismo si spera davvero e lo chiediamo come grazia di nuovo in presenza grazie davvero a tutti